La presentazione della squadra qui, nel main sponsor Terraquigli, oggi presentiamo uno dei nuovi arrivati, dopo Pierluigi Di Marcello, Daviceso, Aleco Carrara, Toccavito Vaccaro, Ala, della Nazionale Italiana, le tue prime impressioni qui a Carpi? Mi sono trovato molto bene, soprattutto con i miei compagni di squadra, molti giocavo contro anche l'anno scorso quando stavo a Teramo, molti li conosco anche dalla Nazionale, a Carpi è una città molto bella, mi aspettavo di trovare questo ambiente, la città è bellissima. Ascolta, tu sei arrivato, la prima partita ufficiale è stata subito una partita importante con un trofeo in palio, avete avuto anche la forza di portarla a casa, tu sei un po' più abituata a questo tipo di partite, come hai visto anche i tuoi compagni in campo contro una squadra come Fasano che l'anno scorso ha vinto il campionato della Coppa Italia? La squadra l'ho vista molto carica già dall'inizio, la Supercoppa per me è stata un'esperienza nuova, sono molto felice di averla vinta, con molti sacrifici è stata una battaglia veramente, come si è vista anche in campo. Però sono sincero nel dire che mi aspettavo come si è stato del genere perché conosco bene i miei compagni, da uno ad uno e so che sono dei guerrieri e ci aspettavamo questa vittoria. Fasano sempre a guerrieta, Fasano squadra che si era anche rinforzata con gli rivi di Tauriano e Molineri, come hai visto tu la vicenda di Bearevic? Bearevic era un giocatore che comunque tanti anni che era Fasano, ha vinto tanto con Fasano e poi questo divorzio all'improvviso. Ma questa cosa da parte nostra è molto strana sinceramente perché Bearevic è stato sempre un punto forte della Juno Fasano appunto. Non penso neanche che sia stato per fatto della sconfitta della Supercoppa perché io da giocatore che ero in campo vedevo che lui dava veramente la vita, che gioco contro di lui da più di cinque anni. È una cosa molto strana sinceramente, penso che abbiamo avuto dei disguidi societari, non lo so. Un'ultima domanda, a livello personale tu sei arrivato qui a Carpi probabilmente per rimanerci molti anni, fai un programma, gli obiettivi tuoi in questi prossimi anni, sia a livello di nazionale sia a livello di club? A livello nazionale spero di lavorare il più possibile bene con il Carpi in modo da poter avere dei risultati con la nazionale. Ho fatto la mia squadra, spero che faremo il possibile per vincere altre coppe, altre medaglie e quello che avverrà perché la squadra c'è, siamo forti, abbiamo voglia di dimostrare e penso che siamo partiti bene.